Anticipazioni Grande Fratello 14 marzo 2024. La madre di Greta contro Sergio, la sorella di Perla contro Alessio, Giuseppe ferito da Beatrice. E adesso vi dedichiamo questo articolo che riguarda il Grande Fratello con le anticipazioni di quello che andremo a vedere stasera nella puntata del 14 marzo 2024, vi ricordiamo che il programma terminerà il 5 di aprile. Vi preannunciamo subito che Alfonso Signorini e i suoi autori hanno preparato per noi diverse belle sorprese. Ovviamente si parlerà del televoto, dove lo ricordiamo sono i nomination Anita, Federico, Massimiliano, Simona e Giuseppe. Secondo i nostri sondaggi Grande Fratello appena pubblicati sulla nostra piattaforma YouTube, che lo ribadiamo si sono sempre risultati veritieri con un errore massimo del 3% a giocarsela saranno proprio Anita e Federico, che sono divisi veramente da una manciata di voti. Si apre poi l'angolo delle sorprese, infatti stasera Letizia Petris vedrà il suo migliore amico con il quale è cresciuta nella comunità di San Patrignano, mentre Rosie Chin riceverà la gradita visita dei figli, felici per lei che è riuscita a conquistare la finale. Greta Rossetti riceverà la visita della madre che come vi abbiamo mostrato tramite i nostri video non è per nulla felice del legame che Greta sta stringendo con Sergio Dottavi, insomma verrà a dirle che forse è meglio che si fermi e non vada avanti con questa storia. Spazio a Loana, sorella di Perlavatiero che come abbiamo visto non è assolutamente contenta del comportamento che Alessio Falsone tiene con la sorella alla quale è molto molto legata, e credo che le ne dirà delle belle. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Un libro sempre aperto che non smette di regalarci emozioni in particolare il calabrese è abbastanza affranto perché ferito nell'orgoglio dalle parole della Romana. Grazie a tutti.